Ciao, allora io mi chiamo Emma e sono qui per raccontarmi un po' di me. Ovviamente questo canale sarà dedicato tutto a me, diciamo anche a voi se mi seguirete, un pochino almeno, speriamo. Mi tolgo il capello perché mi sta facendo mal di testa terribile. Parlerò delle mie emozioni, sentimenti, magari qualche trucco anche, se volete, se me lo chiedete, ma anche qualche challenge che ho visto. Allora, faccio questo canale perché io abito a Padua, quindi tutti i famosi YouTube abitano a Milano. Quindi per tutti quelli che seguono quei famosi YouTube, io rappresento quelle persone che stanno lì e non dicono perché io non sono nata a Milano, in un piccolo paesino di Padua. Ah, e se non sapete dov'è Padua, è nel Veneto. Quindi cominciamo così. Allora, a me piace il colore verde, rosa e nero, anche bianco certe volte. Io sono nata il 12 agosto 2004, quindi sono abbastanza piccolina, cioè piccola. E quindi ho 11 anni e affronterò la prima media. Quindi chi c'è già stata, io non so niente della prima media. Anzi, ho una sorella che va in prima media, solo che io ho preso un po' di zaino. Infatti ho preso già il mio zaino. E sono tutti i tagli dei fumetti e di certe robe. Maia, no, mi fa proprio male perché non hanno i didastici. Io voglio quei cappelli che mi fanno male. Quindi preferisco i perretti, i cappelli. Cioè, a me non mi piacciono perché... Ah, odio l'inverno. Mi piace solo la neve, neanche. Mi piace solo il Natale. Mi piace solo il Natale dell'inverno e basta. Non mi piace l'inverno perché io sono una ragazza solare, mi piace il mare. Infatti, in questi stati sono andati in Croazia. È stato bellissimo. Forse vi farò vedere qualche foto, forse no. E questo sono io. Ah, amo i pandacorni. E... Ho un cavallo che si chiama Pacco. Vi farò vedere anche qualche foto. Intanto vi faccio vedere questa... Praticamente è la letterina che ho scritto alla mia amica. È della Croazia. Lei è andata a Porto dei Canati, che la saluto tantissimo. Ciao Ele. Eleonora si chiama. E niente, è questo. Ah, io ho fatto altri video. Visto che sono diventate già molto famosi, mi sono un po' organizzata in questa cosa. E sono... Cioè, di nuovo sono andati tantissimi mi piace e tantissimi visualizzazioni. E quindi mi sono un po' informata in questa cosa. E volevo... Tanto che... Ho visto che ci sono molti YouTube... Facebook... Cioè, quella che fanno video su... Vabbè... E mi piace tanto fare questa cosa, quindi io vorremmo condividere me con voi. Ah, allora... Io ho preso da tanti i miei YouTuber preferiti. A me piacciono tanto i The Show, che sono fighissimi davvero. Come fanno ad avere quei muscoli? E io ho scritto anche a loro. E non so... Se sono in cerca di minarelli, iscrivetevi, perché fanno tante cose fighissime. E vorrei provarci anch'io, se me lo chiedete magari. Perché... Ci ho provato una volta, ma non è andato tanto bene. Non ho capito subito che era uno scherzo. Come hanno fatto? Quindi... Adesso vi saluto e vi racconterò altre cose di me. Quindi... Ciao!